La Commedia della Vanità è un dramma distopico di Elia Scanetti, scritto tra il 1931 e il 1934. È una specie di strano melange tra una favola nera, una leggenda popolare e un fatto di cronaca. Si racconta la storia di un paese non meglio identificato, in un tempo non meglio identificato, che fa pensare all'Europa degli anni 30, ma che poi non è così terribilmente lontano da oggi, in cui per un editto di insindacabili volontà superne che non vengono mai nominate, si è decretata la distruzione di tutti gli specchi, di tutte le fotografie, di tutti i ritratti, di tutti i possibili strumenti di rappresentazione e di autorappresentazione che l'uomo si dà. E a partire da questo editto la vita di questa comunità viene seguita in tutte le fasi che ne conseguono, dal svuotamento del senso dell'identità, alla dissociazione degli individui, fino alla costituzione di una massa e di una dittatura che andrà a minacciosamente stagliarsi sull'orizzonte finale del testo. Prendere di nira le vostre rispettabili immagini e farle a pezzi. Come accade a molta parte della drammaturgia tedesca, soprattutto di quegli anni, questa sorta di favola nera è di fatto un apologo allegorico. È un apologo allegorico attraverso il quale Canetti tenta di mettere a fuoco una dialettica fondamentale del proprio pensiero, che è quello che contrappone la massa e il potere, avendo sullo sfondo l'indagine sulla morte e la possibilità di uscire dall'orizzonte della morte, per l'appunto. Mettere in scena un testo di questo genere oggi è un modo per guardare in una sorta di specchio straniato, un po' attraverso una lente deformante, il nostro presente. Un presente in cui la dicotomia tra massa e potere è fortissima e probabilmente se sostituissimo al sostantivo massa, al sostantivo popolo capiremmo ancora meglio il tipo di problematica che si agita, che relazione esiste tra il popolo, la politica, l'autoritarismo, la dittatura. Al tempo stesso questo apologo allegorico ci conduce a riflettere anche sul rapporto che noi abbiamo con le nostre immagini ed è un altro tema cruciale del nostro presente. Quanto noi esistiamo attraverso le immagini che diamo di noi stessi. Pensiamo ai selfie, ancora una volta capiamo l'attualità di questo testo. Nella profonda ambiguità dell'uso delle immagini perché di fatto nel testo viene stigmatizzata l'inanità di costruire la propria identità a partire da una rappresentazione, da un ritratto, da una fotografia per l'appunto, ma al tempo stesso ci spiega anche come il meccanismo rappresentativo sia costitutivo antropologicamente della costruzione dell'identità umana. La drammaturgia di Canetti è una drammaturgia piuttosto composita, è uno strano ibrido tra una parade, una varietà, un dramma borghese, una farsa espressionista. Tutti questi stili, queste possibilità che vengono riciclate all'interno del testo li abbiamo racchiusi in una specie di grande contenitore, che è un contenitore circense. È come se tutta la commedia fosse rappresentata all'interno di un circo, con una sorta di spirito avanguardistico, cabarettistico, di distruzione della quarta parete, di apertura sul pubblico, ma al tempo stesso all'interno di uno spazio estremamente inquietante, che è sì festuoso, ma che al tempo stesso allude al pericolo, alla messa a rischio della vita nel rapporto con l'animale feroce, nel rapporto con il trapezio, con la vertigine. In fondo questa è anche una delle idee di teatro fondamentale, è una delle possibilità fondamentali del teatro. L'indagine intorno alla leggerezza, al gioco, alla festa, ma al tempo stesso la parentela stretta e profonda con la morte. Ci sono due grandi figure, a mio giudizio, che aleggiano alle spalle di Canetti, drammaturgo. Per un verso, un grande modello, Karl Krauss, di cui Canetti in qualche modo ricalca la profondità e l'allucinazione della visione, una visione distorta, ma al tempo stesso oggettivissima, è il culto, l'ossessione per la voce, per la restituzione della vocalità. Dall'altra parte, Brecht, un modello invece detestato, ma di cui si capisce perfettamente il funzionamento, che in qualche misura, anche se rifiutato, è presente. Credo che uno degli insegnamenti profondi che Canetti prende dal teatro brechtiano, sia oltre all'impegno politico che è presente all'interno del testo, la profonda consapevolezza che il vero teatro è un teatro di divertimento. Questa favola nera dà comunque un profondo piacere, che è un piacere fisico, un piacere erotico, l'erotismo è al centro di tutto il testo e al tempo stesso il piacere della comprensione, la gioia e il divertimento di capire che cosa ci sta intorno. Commedia della Vanità è un testo corale con decine e decine di personaggi e nella costruzione del cast abbiamo scelto di mantenere questo impianto polifonico, questo concertato di voci che è al fondo dell'idea anche di teatro di Canetti, con la possibilità di identificare il personaggio con una sorta di maschera acustica. Nella costruzione del cast abbiamo ripercorso in qualche modo l'eterogeneità stilistica e di genere che è al fondo del testo. Vale a dire che lo scheletro portante della compagnia è rappresentato dal nucleo di attori che già da qualche anno ormai collabora stabilmente con me e con il nostro teatro. Ci sono però anche due presenze nuove, due incontri nuovi, molto felici. Per un verso Fausto Russualesi, un attore che conoscevo da anni, un amico per certi aspetti si è incontrato all'ombra di Ronconi, anche se con lui non avevo mai lavorato in passato, e per l'altro verso Aglaia Pappas, un'altra amica, un altro incontro all'ombra di un grande maestro, Teodoro Sterzopoulos. Con nessuno dei due per l'appunto avevo lavorato, entrambi hanno generosamente accettato questa sfida. E poi c'è una terza componente importante e preziosa di questo cast, che sono gli allievi, anzi ormai gli ex allievi, della Scuola di Teatro Yolanda Gazzero, la Scuola di Emilia Romagna Teatro Fondazione. Sono arrivati quest'anno al compimento del loro ciclo triennale, hanno già chiuso il loro percorso didattico con la messa in scena di tutto Fabrodo, e qui si trovano al loro primo lavoro da professionisti. Ci sembrava doveroso che un teatro nazionale con una scuola si facesse carico di offrire a questi ragazzi l'opportunità di uno sbocco professionale vero per cominciare a cimentare, a mettere alla prova le proprie forze e a incontrare effettivamente il pubblico. Grazie a tutti.